Avanza Rondinelli, vediamo, De Luca fa movimento, ha smarcato l'avversario con una finta, Rondinelli lo serve malissimo, lo serve malissimo Rondinelli, allontana Matera, attenzione a Mancosu che ha un ottimo tiro, Mancosu avanza all'imitato dell'aria, proprio il dribbling personale, attenzione Mancosu, il suo sinistro fuori, non ha colpito bene Mancosu, ha fatto una grande azione del sardo Matteo Mancosu.